ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video per il video di oggi ho pensato di farvi vedere cinque metodi per realizzare i boccoli senza calore tenete presente che la grandezza del boccolo e anche il tipo di molla che si va a creare dipende fortemente sia dal vostro tipo di capello poi dipende anche da quanto sono grandi le ciocche che prendete per realizzare i boccoli allora vi faccio vedere dei metodi che ho utilizzato in passato e che mi è capitato anche di utilizzare abbastanza recentemente poi mi sono affezionata a due tre di questi e il resto dei metodi li ho un po tralasciati però comunque sono dei metodi che funzionano semplicemente hanno cominciato a non funzionare più per me per la mia lunghezza e per il tipo di boccolo che io vorrei ottenere però se vedete i capelli un po più corti dei miei che non è difficile trovare gente che ha dei capelli più corti dei miei direi che sono dei metodi molto efficaci allora il primo che vi faccio vedere è il mio metodo penso che dovrei prendermi un brevetto per questa cosa è il mio metodo del dei degli elastici ricavati dalle calze allora io praticamente ho questa serie di elastici che sono tutti ricavati da gambaletti di quelli velati che sono quelli che ad esempio mettiamo noi donne che sono orrendi quelli che arrivano praticamente sotto il ginocchio vanno ritagliati a striscioline quindi quando tu devi buttare tipo queste calzette al posto di buttarle ne prendi una due quelle che sono rovinate tagli la parte delle dita tagli via la puoi anche buttare e poi fa i ritagli delle striscioline del circa della grandezza di un centimetro poi appena le le tendi poi loro si si riavvolgono su se stesse realizzi questi elastici io uso soltanto questi non compro elastici nuovi perché comunque li realizzo gratis posso reinventare le cose che devo buttare sono molto resistenti avremo bisogno di uno stick di questo vanno bene anche le bacchettine quelle dei cinesi oppure ci sono degli stick per i capelli che sono magari senza l'estremità decorata quindi sono sottili dovete semplicemente aprire questa parte del dell'elastico quindi lo aprite e andate a incastrare in questo modo quindi praticamente l'ho andata ad inserire all'interno della maglia poi prendete una ciocca ovviamente io vi faccio vedere il metodo ma non penso che lo utilizzerò questo metodo perché con me con me ormai anche no i miei capelli sono abbastanza lunghi quindi niente non c'è verso allora questo lo tenete in questo modo fate un giro e continuate così per tutto per tutta la lunghezza del bastoncino cercate di rimanere sempre al centro del bastoncino e cercate di non ruotare in questo modo non fare questo movimento ma restare ferme quindi in questo modo così vedete capovolgerlo così semplicemente capovolgerlo non ruotarlo in questo modo ruotarlo no così no perché altrimenti non si farà un boccolo liscio ma un boccolo frise a meno che non lo vogliate chiaramente date sempre avanti vedete dovete tenere la ciocca aperta non girata e poi la puntina la tenete col dito e la fate la chiudete praticamente all'estremità della ciocca andate su fino in alto oppure se volete fermarvi anche un po prima a questo punto scusate mi guardo nello schermo prendete una parte e l'altra parte fate un nodino vedete è chiuso e lo sfilate questo è quello che dovreste ottenere in questo modo ovviamente a seconda della grandezza della ciocca potreste ottenere dei un boccolo ovviamente molto grande o un boccolo molto stretto e molto rizzo chiaramente dipende molto dalla vostra preferenza ecco è tutto lì il boccolo è più evidente esce meglio quando lo tenete dalle 6 alle 8 ore almeno non vi consiglio di dormirci perché è un po scomodo però è un metodo veramente che funziona è molto comodo e lo potete tenere magari lo fate la domenica in casa oppure la mattina dovete uscire la sera questo lockdown no è uno dei miei metodi preferiti e poi comunque molto stretto non non va via e ci potete fare quello che volete il boccolo è veramente ottimo vi lascio una foto qui da qualche parte del riccio che ho ottenuto l'anno scorso con questo tipo di metodo magari anche per darvi un'idea del risultato che che otterrete con questo tipo di boccolo allora il secondo metodo è quello dei bigodini flessibili prendete sempre la vostra ciocca può essere più o meno grande sempre al centro iniziate a far roteare la ciocca ok la puntina che sempre un po la incastrate praticamente sotto la ciocca la salite su arrivate qui 1 praticamente lo chiudete e questo è uno dei metodi che utilizzo abbastanza spesso ovviamente quando sono a casa quando so che devo restare a casa l'utilizzo abbastanza spesso dormirci è impossibile ho già provato delle volte a dormire con questo con questi bigodini ma è veramente impossibile quindi comunque non vi consiglio di di dormirci però se restate a casa sono veramente ottimi berriccio e a seconda di quanto lo fate largo la ciocca di quanto la fate larga comunque il boccolo è anche abbastanza stretto ok adesso vi faccio vedere il metodo delle due fasce che è un metodo che io utilizzavo molto in passato quando avevo capelli un po più corti allora prendete delle fasce come queste qui potete anche trovare dai cinesi o al mercato ne indossate una in questo modo cercando di farla andare più in basso possibile mio padre mi dice che sembra sempre un indiana quando faccio questo coso e dividete i capelli in due ciocche ok allora a parte che dovreste districarla io non la districherò perché ci sono ci hanno troppo tempo allora quello che dovete fare prendete una ciocca quindi una parte della chioma aprite la fascia vedete e la inserite in questo modo su questa fascia dobbiamo fare tutto il lavoro che riguarda questa ciocca quindi nuovamente facciamo fare un altro giro così vedete poi nuovamente magari mi giro sono attaccata sono piantonata al muro nuovamente due dita ciocca praticamente questo è il tipo di lavoro che dovete fare ora io lo faccio tutto e vi faccio vedere il risultato ok ragazze questo è il risultato della prima fascia quindi praticamente girandovi il risultato dovrebbe essere questo qui quindi come vedete la prima fascia ospita interamente il giro che noi abbiamo fatto fare alla prima ciocca ora prendiamo la seconda fascia andiamo a mettere in un posto comodo che possa intersecarsi anche con la seconda facciamo lo stesso identico lavoro con la seconda ciocca ovviamente potete anche fare in modo inverso quindi magari girare al contrario questo è il risultato che dovreste avere praticamente la fascia bianca la ciocca di sinistra e l'altra fascia la ciocca di destra quindi praticamente dovreste avere questa situazione ovviamente potete decidere se far girare la treccia partendo dal basso oppure verso l'alto e viceversa allora con queste io riesco a dormire vi faccio passare anche una foto del boccolo che io tengo con la mia lunghezza però con questo tipo di metodo ovviamente più avete capelli corti meglio sarà perché giustamente sarà un po diverso l'effetto con questo metodo mi trovo molto bene semplicemente avendo i capelli molto lunghi diciamo che il boccolo è molto leggero molto morbido e non tiene più come in passato però devo dire che è veramente un ottimo metodo se avete dei capelli diciamo più corti potete anche utilizzare una sola fascia quindi prima riempire i capelli magari fino a metà fascia e poi far partire questi altri capelli dall'altra metà fascia quindi riempirne una sola con due lunghezze la parte sinistra falla partire da sotto e avvolgerla sotto e la parte destra falla partire sopra e avvolgerla sopra chiaramente io utilizzo due fasce perché i capelli molto lunghi e riempirne una sola è impossibile praticamente avete finito di solito io giro i video sabato e domenica perché non fanno lavori però gridano e si picchiano per favore vi faccio vedere adesso il metodo del accappatoio è un metodo alternativo all'utilizzo della cinghia dell'accappatoio ovvero il metodo del collant allora io avevo una cinghia diversa da questa che utilizzavo per fare questo metodo ed era molto più corta in realtà mi sono accorta che sostituendola con una cinghia più lunga che genio riesco tranquillamente ad operare anch'io il metodo dell'accappatoio però quando non avevo la cinghia più lunga mi sono reinventata questo metodo con il collante materiale elastico e quindi giustamente potevano estendersi un po di più in realtà io ve li faccio vedere tutti e due perché con questo si può dormire però diciamo che lo spessore del della cinghia si sente molto quindi può dar fastidio mentre invece con l'alternativa del collante è un po più facile e più comodo dormire quindi ecco vedete un po voi se vi sentite più comode a dormire con i collante piuttosto che con la cinghia in realtà il principio è lo stesso no questa è troppo piccola vedi già un punto a sfavore allora dobbiamo dividere innanzitutto la nostra chioma in due parti in questo modo ovviamente voi districate i vostri capelli poi prendiamo la cinghia del nostro accappatoio la dividiamo in due quindi cerchiamo di utilizzare la stessa porzione ecco e da questa parte qui questa parte qui la andiamo a mettere così andiamo a prendere una molletta e andiamo a fissare la cinghia in questo modo so che fa ridere sta cosa ma è così che si deve fare perché altrimenti scivola iniziamo da questa parte prendiamo questa ciocca la teniamo bene e la facciamo passare da una parte all'altra della cinghia è un mezzo abbastanza facile in realtà come potete vedere cerchiamo di tenere la cinghia sempre dritta cioè non di girare anche lei perché poi altrimenti si può strotolare una volta che abbiamo terminato di avvolgere i capelli quindi cerchiamo di avvolgere solo i capelli e la cinghia lasciamola dritta quanto più possibile comunque sono veramente felice che ho i capelli neri adesso sembro biancaneve a questo punto che abbiamo le punte qui prendiamo un elastico che possiamo anche fare in due e andiamo a fermare le punte la punta è ferma e questo è il risultato della prima ciocca adesso andiamo a fare anche la seconda se non avete un elastico a portata di mano potete anche chiuderla con queste pinzette elastico pinzette con questo metodo in realtà si potrebbe anche dormire ovviamente è un po' difficile dormire di lato però devo dire che se dormite a mo' di salma state tranquille è abbastanza comodo ovviamente poi questa la togliete e questo praticamente è tutto se volete potete anche decidere di legare questo dietro in modo da togliervi da davanti le ciocche ok allora dopo aver visto quello della cinghia vi faccio vedere quello dei collante allora i collante hanno questa parte voi ovviamente li potete capovolgere così e li mettete sopra allo stesso modo poi prendete una pinza e li bloccate in questa ma sono bellissima cioè io penso che una visione celestiale allora facciamo esattamente la stessa identica cosa sembro tipo una sposa non lo so possiamo bloccarla sempre con una mollettina ok lo possiamo anche bloccare con un elastico in realtà lo sto bloccando con un elastico perché non ho più pinzette perché mi si sono rotte tutte e questa l'ho fatta un po' più lunga questa l'ho fatta un po' più stretta però ecco vedete potete fare tranquillamente questa cosa ovviamente con questo potete dormirci questa parte non si sente niente siete abbastanza comodi chiaramente questa la potete togliere bene vi ho fatto vedere i metodi che io utilizzo di solito per mettere in piega i miei capelli senza calore ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se li conoscevate questi metodi oppure ne avete uno preferito oppure vi ho invogliato a provarne di nuovi chiaramente se volete fare semplicemente le onde da treccia potete anche realizzarle realizzando una treccia inglese e poi il giorno dopo sciogliendola anche quello è un metodo molto semplice per mettere in piega i vostri capelli e dare un po' di movimento fatemi sapere la vostra opinione se volete lasciare un commentino giù nell'area commenti io sarò veramente molto felice di rispondervi se avete delle domande da farmi io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video